A proposito di poveretti, essendo dei grandissimi figli di puttana, questo è notorio, no? Un nostro ascoltatore carissimo che io saluto, che è Andy della Cumpa, uno dei padri fondatori della Cumpa dello Zona di 105, mi gira questa mail con allegata una foto, che praticamente rappresenta un cartello che è spuntato nell'azienda vicino dove lavora sua moglie, dove il, aspetta, lui è il direttore responsabile di zona di questa azienda, ha appeso questo cartello piuttosto incazzato perché qualcuno gli ha sottratto il suo amatissimo giornale. Io ovviamente ho preso la palla al balzo e ho realizzato questa bella bastardata. Dai che andiamo su qua! Lo Zobi 105 presenta La bastardata del giorno Nella bastardata del giorno Nella bastardata del giorno Un nostro caro ascoltatore ci segnala un cartello simpatico che è spuntato nella sua azienda. Il cartello recita Chi ha preso il giornale è pregato di riportarlo in ufficio. È questione di onestà. Si prega anche di non buttare questo biglietto, visto che è il secondo che scrivo. Se qualcuno ha qualcosa da dire, mi chiami pure. Giovanni bla 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 col numero di cellulare. Il dirigente responsabile di zona di questa azienda. Ma quale occasione migliore per spacciarsi per il ladro del giornale e tirargli un culo così. Andiamo! Di la bastardata del giorno Pronto? Giovanni? Pronto? Giovanni? Pronto! Oh, mi senti? Adesso sì, chi sei? Sei Giovanni? Sì! Eh, l'ho preso io il tuo giornale, allora? Il giornale? Visto che fai il gradasso che lascia i biglietti in ufficio. E allora? Eh? E allora? Cazzo vuoi? Non sai che sei? Dimmi dove sei! Eh, dimmi dove sei. Mica mi fai paura, eh, pirla. Ma la cammeta non fai una paura, ragazzi. Eh? Non fai paura neanche a me. Oh, dimmi chi sei. Eh, cazzo... Che dove sei? Dove sono? Sono in un mio ufficio e sto leggendo il tuo bel giornale. Oh, vedi? Ti nascondi dietro un dito? Dimmi chi sei! Cazzo vuoi? C'è scritto mica il tuo nome sul giornale, eh? Eh, o mi dici chi sei, o mi dici dove ti posso trovare, se no raga. Ma frega cazzo, figa tu vuoi nel tuo giornale. Oh, fai simpatico anche. Ma per un giornale? Tanto, qualsiasi roba... No, guarda, 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 guarda. Qualsiasi roba ti arriva d'ora in poi. Me la inculo io. Il cartello c'è nel tuo giornale e ci potete lasciare. Non ti va bene, vuoi tenerlo. Te lo fici in c***o bene così, è chiaro? Ti dico chi sono, però voglio che tu sappia una roba. Sì. Che mi stai sui coglioni, hai capito? Già, anche a me. Mi stai proprio sui coglioni, sei proprio una testa di c***o, te lo dico, hai un atteggiamento di merda, ed ora in poi, tutti i giornali che ti arrivano, io me li inculo, hai capito? E ci cago sopra. Va bene, va bene, bravo. E allora? Ma pensa a te. Ma ci cago proprio sopra e poi te li metto sulla scrivania perché sei proprio una testa di c***o, te lo dico. Bravo, bravo. Mi stai solo una testa di c***o, ma che lo vuoi? Lo vuoi il giornale? Lo vuoi il giornale? Lasciami mille euro in contanti in una busta e te lo ridò indietro, pirla. Sì, stai, sì. Ma tu hai sentito, guarda, non ho tempo da perdere. O mi dici che sei, sono regia, ti saluto. Mi chiamo Franco e allora che problema c'è? Bravo, bravo. Bravo, bravo. Guarda che sei capace di fare, ti saluti. Vada via al c***o, pirla. Bravo, vai, ti fai che mi c***o. Ti saluti, classica proprio. Buon appetito. Maestro, ti saluti. Maestro, ti saluti.